e su questo personaggio che non essendo io non conosco però si sta esibendo nel nulla da circa 40 minuti allora, il suo essere così eroe ma perché questa ontologia? ma devo interrompere non posso, non parlo a chi mi rompe i coglioni con l'essere e con l'esserci non voglio parlare con l'ontologia no, abbasso l'ontologia, me ne stracotto parli con me, parli con il professore Heidegger non con me finisca l'esibizione parli con Heidegger e vado a fare il culo il suo essere è così